Ciao ragazzi e bentornati dal vostro fail, oggi siamo su FIFA 15 come vedete nel monitor Allora, prima di tutto voglio solamente fare una premessa Voglio dirvi che molti di voi hanno detto Ma scusa, ma fail non eri tu quello che era riuscito a fare full screen? Allora raga, se voi vedete, in pratica non è full screen questa registrazione Però l'unica cosa è che io inquadro tutto il televisore Registrando al buio sembra che registro con le sbarre laterali in pratica Visto che io non sono proprio un genio delle inquadrature Registro così, riprendo tutto il televisore e chi si è visto si è visto Tanto poi non è che dà molto fastidio, l'importante è che si vede bene E questo succede abbastanza Va bene ragazzi, allora visto che io in Ultimate Team sono negato E poi fanno tutti quello Io penso su FIFA più che altro di fare partite online amichevoli Così vi faccio conoscere qualcuno dei miei amici Vabbè, bando alle cianci, iniziamo subito Allora eccoci subito Vi voglio dire che io gioco molto con il Borussia Dortmund Poi con il Bayern, Monaco e Barcellona Sono le tre squadre Perché c'ho sto coso qua che mi dà fastidio? Vabbè, iniziamo Sì ma vogliamo metterci 45 Ah, ho trovato, ok Ok Allora, prima di tutto per farvi capire la proagine Vabbè, questo lo sanno tutti Ti è, usa, fa testo, coso, coso fa? Vabbè Ok, ragazzi, ho trovato il coglione che vuole sfidarmi Chi è? La Roma No, 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 no Non posso sfidare la Roma Io sono della Roma Ragazzi, per chi non lo sapesse Io sono della Roma Non posso batterla E come... Vabbè, io non esulto Ragazzi, questo è un pro Porca miseria In quattro minuti di gioco Ha fatto solamente azioni lui Vabbè Comunque, vai No, no, no Questo fa lo zotto Uff Vai, denfella No, non devo subire gol Madonna, perché? Tra tutte le squadre popolari Vabbè Mamma mia Certo che nel tiro a Nengolan Nella realtà è meglio No No Buono Buono Buonissimo Buonissimo No Ancora Cos'è sto schifo? No C'è sempre Videnfeller C'è sempre Videnfeller Ragazzi Io sto solamente subendo Porca miseria Questo è un pro Oh, 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 oh Ho parlato Ho parlato Vai, Royce Vai Che sei più veloce Madonna Ah, no È immobile, è immobile Immobile, immobile, immobile Sorry E la madonna Certo che sei lentissimo Figlio mio Eccone uno veloce Obama, young, Obama, young E la madonna Che schifi sono questi Sì, vogliamo No, 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 no Non ci posso Oh, 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 oh Che cos'è? Mortacci tua Ma che è rimasto Tantreno Bandierina del fuorigioco Perché esiste il fuorigioco? Perché? Via, via Sta palla Vi No No, no Non mi dire che me lo sono fatto mettere Manco per il cazzo Cos'è? No No No, no, no Come di voi Rosso Ma What the fuck? Cosa gli ho fatto? Cosa gli ho Gli ho dato un buffetto sulla qua? Vabbè Vediamo se Va bene la solita tattica Oddio Oddio ragazzi Non immaginate Piani ci fa battere Vabbè Su Di qua Di qua Di qua Oh, 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 oh Dai Di là Di là Di là No, aspetta Mi sto confondendo No, Totti no Totti no Di là Please 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 Di là Di là Di là Di là Di là E infatti ci ha tirato veramente Madonna Ok Vi rendete conto Che io sto perdendo Vabbè Sono contento per la Roma No 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 Vabbè Mamma mia Bellissimo 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 E la conclusione Un po' meno Mamma mia Che faraccio Che gli ho fatto Non ti azzardai Non ti azzardai Ti ammazzo Ah, ok Vabbè Giallo va benissimo Madonna Scusa Capitano Oh Oh Regà 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 Niente 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 Io devo Io devo Si deve fare Immobile Si deve fare Recuperare dai difensori Però recupera Pallo Bameyang Mamma mia Eh, niente Oh, oh, oh Non è finita Non è finita Niente Si devono fare Porca miseria Ma Che cacchia È tutta una carambola Oh 44esimo minuto 45esimo Ho preso cartellino rosso E sto perdendo 1-0 Bellissime No, niente Giuro che abbandono Giuro che Fuori Fuori Gioco Fuori Gioco Tiè Scusa Perché tra tutte le squadre si è dovuto prendere la Roma No No Via Via sta palla Via lontana Dallo Eh, te credo No, ma che Dai, ma quando si decide a finire il primo tempo Cioè, no Ragazzi, giuro Non lo sto facendo Io non gioco mai così Non so perché Vabbè, mi emoziono davanti alla telecamera Dai È certo Oramai Siamo alla ripresa E subito Obama Young che attacca Obama Young Sei più veloce dei difensori Vai Mamma mia Oh, 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 oh Cosa? 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 No, vabbè, dai No, no, no Se entra No, vabbè No Ho già detto no Pa Ti è qua E qua non recuperi più E ho guadagnato pure un trofeo tra l'altro Legnata Oh Adesso voglio Fama, soldi e belle donne Sta pure con un uomo in mente Ok, ho pareggiato Voglio pure vincerla questa partita Il rimontone Come avrebbe dovuto fare ieri la Roma Il rimontone contro la Lazio Però non fa niente Tanto non si può Eeeh Tutti sempre in fuorigioco tanto Cosa? Da quando il fuorigioco ti fa ribattere da centro capo? Vabbè, fa niente Michael Bravo in carcettare questo pallone Non era facile Oh, 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 ah Via E qua non Capirei Qua non recuperi più Mamma mia Mamma mia No 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 Se andavo a concludere oh 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 dove sta l'altro che voglio fare lo sozzo dai no vabbè dai attenzione tanto stai in fuori gioco mi dispiace capitano ma stai in fuori gioco madonna dai leva sto pallone levagli questo pallone lotta come può no se segna gli schiaffi madonna vi giuro ragazzi non lo sto facendo apposta ma come cristo facciano vabbè basta adesso mi concentro sarà che parlare mi di solito io gioco muto vai 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 per dio madonna vabbè 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 fa niente vai se segno di angolo non l'ho mai fatto in vita mia di segnare di angolo e niente infatti mi esce De Santis madonna 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 che cosa ho fatto un gol di merda un gol di merda però intanto meritato conquistato guadagnato ato cioè ma guardate la precisione la precisione niente e poi Royce si deve far levare palla anzi non era immobile ma perché io mi confondo tra Royce e immobile madonna madonna cosa fa niente no non ci posso creare ma non ci posso creare ma non ci posso creare così a cazzo come diavolo è possibile questa cosa tra l'altro aspetta lo voglio voglio punire voglio punire immobile perché non corre e non fanno cazzo ma non ci posso creare ma come cristo l'ha fatto quel gol no un'altra volta no non l'accetto no ma adesso mi spiegate mi spiegate perché cazzo io non ho giocato a Call of Duty vabbè senza farci domande mamma mia guarda che pro mamma mia corri sei più veloce di 300 volte perché non corri mi spieghi niente lui oh 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 e levati per di un cibacco no 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 un altro rigore no 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 vabbè cos'è un altro rosso ragazzi giuro che se mi segna vabbè tanto stiamo all'80 se mi segna io stacco tutto eh non me ne fotte via di là di là ti prego di là di là di là di là di là di là ti prego di là ti prego due rossi ma come cazzo non mi è mai successo di là di là di là di là dammi dammi palla dammi palla che voglio abbandonare dammi palla che voglio abbandonare ti prego ti supplico ti supplico ti supplico questa partita del cazzo ok per oggi la smetto di giocare perché mi sono già alterato abbastanza madonna sto fifa il prossimo episodio sarà per l'appunto di fifa e spero di fare una serie dove non mi incazzo molto speriamo se vinco non mi incazzo questo qua è certo quindi lasciate un mi piace se vi è piaciuto iscrivetevi se non lo siete già la pagina di facebook la trovate come in ogni video in descrizione noi ci rivediamo tutti quanti nel prossimo video che sarà sempre così ma vi ricordo dove vincerò